Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda puntata di Gtalk. Io sono Marco Burattino e faccio parte di Guideware. Il mercato assicurativo italiano attraversa una fase di profonda trasformazione caratterizzata da operazioni che ne stanno alterando gli assetti proprietari, i canali distributivi e i modelli operativi. Volendo provare a descrivere questi mutamenti possiamo individuare quattro categorie. L'ingresso di nuovi player sul mercato, spesso e volentieri sotto forma di modelli agili e oserei dire brokerizzati. Nell'ultimo mese abbiamo visto l'ingresso sul mercato di WeFox, ieri è stata annunciata l'acquisizione di Assiteca da parte di Oden. Ma non sono fenomeni isolati perché seguono una tradizione di operazioni che hanno seguito la stessa falsariga come per esempio Prima.it nel 2015 oppure successivamente l'ingresso sul mercato RC auto di poste italiane oppure l'ingresso sullo stesso mercato di operatori come Telepass. Il secondo tipo di mutamento è associato al bank assurance. Se tradizionalmente le banche hanno, ormai sono tanti anni che distribuiscono con successo prodotti vita, negli ultimi anni si osserva una forte penetrazione nel mercato assicurativo danni da parte delle banche. o in veste di distributori o addirittura in veste di produttori di assicurazioni. Questo fenomeno è guidato dal fatto che oggi fare assicurazioni danni per le banche significa andare in un business che è più profittevole del core business bancario. Infine la terza categoria riguarda le acquisizioni che sono la base di due, degli ulteriori due mutamenti di cui ho parlato all'inizio. Le acquisizioni di scala in cui una compagnia acquista un'altra compagnia per aumentare la propria dimensione quindi la propria capacità di coprire il mercato o le acquisizioni di specialty nelle quali una compagnia punta il mirino su determinate linee di business perché crede nel loro sviluppo. Ora, chi ha visto la prima puntata di Gtalk sa che abbiamo paragonato questi mutamenti alla punta di un iceberg. Crediamo questo perché vediamo che queste operazioni, questi cambiamenti non sono soltanto associati a un cambiamento dell'offerta o degli asseti proprietari, ma noi pensiamo che la portata di questi cambiamenti abbia la capacità di ridefinire anche quello che è il contenuto stesso del prodotto servizio assicurativo. Per descrivere, per approfondire questo tema ci avvaliamo della presenza in studio oggi di Marco Contini, insurance business advisor coinvolto in alcune delle operazioni che ho citato, nonché appassionato cartografo impegnato a disegnare le mappe che potranno descrivere il mercato assicurativo di domani. Allora, caro Marco, iniziamo dal primo delle operazioni, l'ingresso di nuovi player. La prima domanda che mi viene in mente è però, se guardiamo la raccolta premi del mercato italiano negli ultimi quasi 20 anni, cioè prendiamo 2005 contro 2020, vediamo che nel 2005 il mercato italiano ad anni faceva 36 miliardi di euro come raccolta complessiva e oggi non arriva a 38. La domanda è, con nuovi entranti che arrivano in grande quantità sul mercato italiano a fronte di un mercato che però è statico, come te lo spieghi? Allora, partiamo dal presupposto che il mercato italiano è interessante nella misura in cui stanno arrivando nuovi player dall'estero. Quindi poniamoci la domanda di perché arrivino. arrivano perché hanno l'interesse probabilmente a valorizzare quel grande patrimonio assicurativo che è legato proprio alla sottoassicurazione del mercato italiano. Se noi nel mercato italiano incominciamo a togliere la parte RC auto, che è obbligatoria, e qualche altra piccola copertura, noi vediamo come l'italiano medio non ha coperture assicurative. L'assenza di copertura assicurativa, e non parlo solo del retail, quindi dei singoli individui con le singole polizze infortuni malattie, parliamo anche del corporate, parliamo delle piccole e medie aziende. L'Italia è un territorio di piccole e medie aziende, non abbiamo i grandissimi gruppi internazionali, ma abbiamo moltissime piccole e medie aziende che non hanno coperture assicurative o che perlomeno non ne conoscono l'efficacia e quindi la domanda è perché noi siamo molto sottoassicurati. Quindi l'interesse di un mercato internazionale, sia a livello compagnie che a livello broker, che stanno venendo e stanno acquistando realtà interessanti nel territorio nazionale, oppure stanno creando dei veicoli per poter inserirsi nel territorio nazionale, lo stanno facendo perché c'è un'enorme capacità assicurativa, inespressa, legata proprio alla possibilità di poter, nei singoli retail italiani, nei singoli corporate, poter fare business. Quindi questo è il motivo per cui in questo momento il nostro territorio, rispetto ad altri territori europei, è quello molto più preso di mira, in senso buono ovviamente, però quindi nel momento in cui viene preso di mira però ci dobbiamo porre anche la domanda del perché noi non riusciamo ad esprimere a livello nazionale quella capacità di gestire questa grande sottoassicurazione. Quindi dicevi il territorio preso di mira però con una modalità, io vedo che la modalità più frequente è quella che io chiamo diciamo di brokerizzazione, cioè tipicamente la maggior parte delle operazioni di nuovi entranti assumono il connotato di broker, quindi di intermediari, quindi non il full scale ma soltanto l'ultimo miglio come dire. e mi domando e ti domando, questa cosa perché avviene un tema di rischio, un tema di velocità e un tema di commoditizzazione del prodotto assicurativo? Allora, il primo vero motivo per cui viene questo è perché la grande differenza che c'è tra l'entrata sul territorio nazionale, sia con la costituzione di un nuovo veicolo, un SPA, sia attraverso la LPS, la libera prestazione di servizi e poi la stabilizzazione, avviene tramite una procedura che burocraticamente, e qui ci scontriamo un po' con la burocrazia italiana, è molto lunga, quindi essere troppo lunghi normalmente non collima col fare business. Aprire attività di brokeraggio e comunque venire con società di brokeraggio e iniziare quella che tu giustamente chiami la brokerizzazione, che poi non necessariamente rimane brokerizzazione ma può diventare in un secondo step anche compagnia assicurativa, è il percorso più immediato. Noi ne abbiamo un esempio molto chiaro, che è stato molto pubblicizzato nel tempo e di cui mi sono occupato, che è l'arrivo in Italia di WeFox, che è questo grandissimo player unicorn, come chiamato a livello europeo, con una capitalizzazione superiore al miliardo di euro, che in Italia è venuto con una scelta ben precisa, quella di arrivare sia come società di brokeraggio facendo, secondo me, una intelligente e importante operazione di acquisizione del gruppo Mansutti, peraltro sposando quella che io chiamo l'insurtech, quindi la modernizzazione del nuovo concetto di mondo assicurativo con la capacità dal 1925 del broker Mansutti di essere un broker radicato sul territorio, l'unire il vecchio con il nuovo per lanciare una cosa, lanciare una nuova conformazione di business. Infatti WeFox partirà proprio a marzo, a breve, con una compagnia assicurativa in LPS, perché appunto ha la necessità di intervenire immediatamente, su cui poi incomincerà a lavorare sul territorio nazionale. Questo comporta due cose fondamentalmente, come dicevamo prima, il grande interesse che c'è del mercato estero sul territorio nazionale, ma soprattutto la capacità di poter creare nuovi business, creare competizione e mettere tutti gli altri player, che ovviamente adesso dall'arrivo di nuovi player saranno interessati a capire quale tipo di mercato andrà a prendersi, per rendere ancora i prodotti assicurativi migliori, più efficaci e probabilmente anche meno costosi, oltre a essere molto più efficienti. Un rapido flash, secondo te si tratterà, tornando alle origini, si assisterà con questi nuovi entranti a una nuova guerra nel rubarsi quota di mercato o si arriverà finalmente a aumentare un po' questo PIL assicurativo danni? Allora, distinguiamo due cose. Il mondo auto è un mondo ormai chiaramente molto molto compresso e legato a dei numeri che sono quelli dei veicoli circolanti, quindi non sarà un settore che permetterà di fare grande crescita. Lì ci sarà molto antagonismo. L'antagonismo sarà legato su tipologie di prodotti, velocità di distribuzione dei prodotti, costo dei prodotti e quindi il servizio che ha questi prodotti, poi quindi la gestione dei claim, se verrà dato. Sul discorso del costo ovviamente qui fanno da padrone le piattaforme tecnologiche, perché i grandi costi del mondo assicurativo oggi, io che mi occupo di queste cose, sono legati a due fattori principali, alla distribuzione e alla gestione del sinistro. Nel momento in cui io riesco a comprimere queste due aree posso scaricare questo risparmio sul prezzo del prodotto, attenzione, mantenendo inaltirato il servizio, cioè a parità di servizio, quindi di qualità del servizio rendo il prodotto migliore, mentre ci sarà probabilmente una grande crescita, questo sì, su tutto quello che è il non obbligatorio, quindi tutta la parte, facendo degli esempi di rami di incendio, quindi i rami danni, le cauzioni, la tutela legale, la medman, la grandina, tutti questi prodotti molto specialistici, e qui si arriverà poi a un altro tema, quello della specializzazione, che diventeranno interessanti per questi grossi società di brokeraggio, compagnie assicurative, che interverranno sul mercato nazionale. La sottoassicurazione lo abbiamo in quel settore. Grazie, allora giriamo pagina e una volta parlato di nuovi entranti parliamo dell'altro fenomeno che colpisce, le acquisizioni. Prima una premessa rispetto a questo fenomeno, veniamo da due anni abbastanza complicati, siamo stati a casa con la camicia e poi i pantaloncini per fare call. Purtroppo tutto questo non accenna a finire perché mentre pensavamo di essere usciti o di stare uscendo dal Covid, ora si è abbattuto un altro grandissimo momento di criticità che ci rende tutti abbastanza spaventati, però la domanda che mi pongo è tutte queste operazioni, sono veramente tante, anche se guardiamo le acquisizioni negli ultimi due anni, sono state fatte nonostante il Covid oppure sarebbero state anche di più, secondo te? Allora, domanda interessante che secondo me ha una sua spiegazione. Allora, il Covid io lo vedo come un acceleratore di processi, quindi tutto quello che sta avvenendo adesso con una velocità moltiplicata per 10, accelerata dal Covid, sarebbe comunque avvenuto. Quindi diciamo che il processo di trasformazione a livello di merger acquisition nel mondo assicurativo legato sia alle compagnie assicurative, piccole e medie grandi, sia alle società di brokeraggio, piccole e medie grandi, sia, attenzione, alle società di servizi, ci sono dei grandissimi movimenti che in parte poi verranno annunciati nelle prossime settimane, di trasformazione di TPA che si stanno vendendo a fondi o fondi che stanno investendo nei servizi, quello che dicevamo prima, quindi l'aspetto del servizio come elemento che può portare a spostare portafoglio perché la qualità maggiore del servizio permette di avere dei clienti più soddisfatti di quello che poi sarà l'acquisto della polizza assicurativa. Quindi noi le operazioni che abbiamo visto sono accadute, ne accadranno delle altre, ce ne saranno molte altre che avverranno però non più sulla parte alta diciamo così della forchetta perché ormai il mercato dei 3-4 big importanti si è ormai stabilizzato al di là delle diciamo situazioni che si stanno verificando leggendole sul giornale, su grandi società legate a problemi proprio di governance, ma il grande movimento sarà sulle compagnie medio-piccole, se per medio-piccole intendiamo le middle compagnie e poi su tutta quella serie di intermediari che sono broker, peraltro ieri è stata annunciata l'operazione di Assiteca col fondo Oden che è venuto in Italia e che quindi ha acquistato, ricordiamoci bene, cash per 204 milioni, uno dei più grandi broker che in questo momento, tranne i Mansutti, erano rimasti come dire liberi. Quindi questo che cosa vuol dire? Covid ha accelerato ma non ha assolutamente fatto intraprendere un processo di trasformazione che andrà avanti ancora per i prossimi 5 anni. Ok, prima nell'introduzione avevo categorizzato questi movimenti di acquisizione in due famiglie, le acquisizioni di scala, guardiamo Allianz che compra Viva, HD che compra Amissima, Generali su Cattolica, Intesa Cargeas, o le acquisizioni di Specialty, quindi andando su un ramo specifico, Revo che compra Elba, Sompo, oppure ancora Intesa che però compra RBM Salute, visto che ne ha comprate un po'. Un paio di flash da parte tua. In primo luogo, in quale di queste due operazioni tu credi di più? Cioè quali credi abbiano un impatto sul mercato più interessante, più dinamico? Qui facciamo una scommessa, tanto comunque poi potremmo andare a risentire registrata questa cosa nei prossimi 5 anni. Queste sono cose che parte sto facendo, quindi sono un po' un insider al momento, ma sicuramente per certo il mercato dei prossimi 3-5 anni andrà sulle compagnie cosiddette multi-specialty. E cosa sono le compagnie multi-specialty? Sono quelli aggregati che Revo è una SPAC, che ha usato il veicolo SPAC e dei terminali per entrare all'interno del mercato assicurativo con l'acquisizione di Elba, che non a caso fa una business molto verticale, molto specializzato, che sono le cauzioni. Le altre speciali che intendo io sono la tutela legale, sono la grandine, sono la medman, la parte sanitaria, sono la sanità. Hai citato giustamente intesa che ha visto lungo secondo me nell'acquisizione di RBM, proprio perché per i prossimi anni il mercato della salute, della telemedicina, della teleassistenza sarà il mercato del futuro. Quindi le grandi operazioni che sono ancora in corso e che avverranno, perché ancora non si è fermato il mercato, avverrà proprio in questo settore. Come dicevo prima, il settore più alto si è ormai stabilizzato. I grandi gruppi dovranno andare all'estero per cercare di crescere. Nel mercato tradizionale siamo le multi-specialty, che non a caso saranno però i mercati più redditizi. Elba Assicurazioni è stata un'operazione molto interessante, perché Elba è una compagnia che negli ultimi 5 anni ha dato annualmente ai propri azionisti 12-13 milioni di ricavi netti, che sono dei numeri incredibili sui movimenti di portafoglio della compagnia. Quindi grande interesse di investitori per andare a investire sotto questi settori, che poi sono i settori della sottoassicurazione, dei settori che, dicevamo prima, hanno bisogno di essere maggiormente monopolizzati. E non a caso i grandi broker, le grandi compagnie o dall'estero o i veicoli che vengono creati in Italia stanno andando proprio su questi settori. Perché poi, alla fine, quello che interessa è dare maggior servizio ai clienti, ma gli azionisti hanno bisogno di interessi legati ai dividendi, legati alle azioni. Quindi è un doppio interesse in questo senso. Arriviamo ora all'ultima parte della nostra conversazione. Arriviamo al momento della palla di cristallo. Cerchiamo di fare qualche previsione sul futuro, un po' anche più di mercato e di contesto. Allora, nella puntata iniziale di Gitolchi avevo parlato di fenomeni qualificati come punta di iceberg e uno dei tentativi e delle ambizioni di questo formato è quello lì di andare a vedere cosa c'è sotto. E allora andiamo a vedere quello che noi pensiamo circa i connotati futuri che un'impresa di assicurazione avrà. Secondo me ci sono due estreme all'interno dei quali spaziare. C'è un estremo che vede la compagnia assicurativa specializzarsi sul mestiere attuariale, c'è il data science, c'è il machine learning, ci sono nuovi aiuti che arrivano dalla tecnologia e che possono aiutare le compagnie a identificare meglio il concetto di rischio. Tuttavia magari se questo va in primo piano, continua una tendenza che a me spiace particolarmente vedere, che è una minore attenzione su quelle che sono attività di natura marketing e commerciale, perché le aziende di assicurazione diventano una specie di fabbriche prodotto e si disinteressano dell'ultimo miglio. L'opposto è le acquisizioni, magari quelle di scala. A che cosa possono servire? Ad avere una dimensione più ampia che ti consente di conoscere meglio il territorio di riferimento, di servirlo meglio e magari anche qui la tecnologia, prima tra tutte, l'IoT, può aiutarti a conoscere bene il cliente, può aiutare a rendere le assicurazioni, a trasformarle in soggetti che pensano a rischio ma sono in grado di generare engagement, attrazione sui clienti e avendo un nuovo ruolo sul mercato. Tu i tuoi 5 euro su cosa li scommetti? Allora, vediamo di fare una previsione, perché è chiaro che noi quello che vediamo oggi è un mercato in trasformazione, abbiamo detto, ma quello che dobbiamo cercare e dove dobbiamo andare a attendere è quello che accadrà nei prossimi 5-10 anni. La mia idea è questa, che è molto disruptive ed è anche probabilmente ad oggi forse criticabile nella misura in cui, quello che adesso io accenderò, potrebbe non essere visto come realizzabile. Però poniamoci una domanda. Hai detto giustamente bene, le compagnie oggi hanno un'attenzione spasmodica su alcuni punti della catena e su altri tendono a non seguirla. L'insurtech, la tecnologia di cui tanto si parla, ma di cui probabilmente molti sono anche un po' avversi, hanno un po' paura, nella applicazione di questa tecnologia nel mondo assicurativo, deve servire ad una cosa, deve servire a velocizzare certi processi, a migliorarli, ma attenzione, la tecnologia non andrà a sostituire l'elemento umano. Io che cosa prevedo nei prossimi anni? Innanzitutto una grandissima, ulteriore, maggiore valorizzazione delle reti, delle reti fisiche, non delle reti delle piattaforme. La piattaforma è un metodo di distribuzione, ma le reti fisiche, agenti e broker, dovranno e avranno sempre di più maggior valore. Questo si sposa con la grande trasformazione che arriverà adesso, quindi ci sarà una trasformazione dimensionale, i piccoli non riusciranno più a stare sul mercato, dovranno learsi, dovranno crescere, dovranno dimensionarsi, ma il rapporto col cliente, che sia retail, anche tramite la tecnologia, ma il punto finale, anche nel corpo, sarà legato agli agenti, che dovranno fornire consulenza, dovranno spiegare perché comprare un prodotto, dovranno spiegare perché quel prodotto è migliore di un altro. Il passo successivo è che cosa faranno le assicurazioni da grandi, come dico io, ma da grandi partendo da oggi. Io ho una delle cose che dico sempre, quando parlo del mercato assicurativo, parlo della cosiddetta amazonizzazione del mondo assicurativo. Che cosa intende? È un neologismo. Penso di averlo usato io per la prima volta, non ne rivendico il copyright, però che cosa intendo? Amazon, dov'è capace di lavorare Amazon? Fa una cosa quasi ovvia, ha creato un mercato virtuale. È nel servizio. Nel fatto che se io chiamo Amazon, dopo un secondo e mezzo vengo contattato, vengo soddisfatto nella mia esigenza, vengo soddisfatto in quelle che sono le mie criticità, anche legate alla tipologia di servizio che ho appena avuto. Ecco, il mondo assicurativo dovrà andare verso questo, creare i servizi. Qualcuno mi dice, ma allora perché Amazon, questi grandi Google o la stessa Facebook, quindi diciamo la società che sta a capo, non si compra una compagnia assicurativa, hanno utili a Iosa, ma perché a loro non interessa comprare una compagnia, a loro interessa il servizio che darà quella compagnia. Quindi la mia previsione è che nei prossimi 5-10 anni, diciamo 10 anni per dare maggior respiro, le compagnie assicurative potrebbero fare un altro mestiere, essere una quota parte di un servizio che verrà abbinato a tutta una serie di altri prodotti che questi grandi circuiti. Oggi parliamo di Amazon, tra 10 anni ci potrebbe essere un qualcosa di diverso, ma questo è il senso, che andranno a servire una platea di consumatori che vedranno l'assicurazione quasi come una commodity. Probabilmente noi arriveremo, ed è questa la cosa di Struppiti che dico adesso, domani il consumatore potrebbe anche non acquistare più l'assicurazione, gli potrebbe essere data, regalata come gadget da parte di questi gruppi legati ad un servizio. Quindi per me io sono assicurato nel momento in cui ho un qualcosa, ma non lo vado più a spendere io, mi viene regalato. Questo che cosa comporterà? Comporterà un cambio totale di paradigma del mondo assicurativo. Esisteranno ancora le compagnie, ma non saranno più le compagnie come le abbiamo viste oggi. Questo è molto difficile da poter capire o da poter, come dire, essere digerito, ma in realtà il mondo sta andando verso questo. E ce ne accorgeremo poi probabilmente nel prossimo futuro, e quindi io per futuro intendo i prossimi 10 anni. Innanzitutto io mi prendo molto volentieri la scommessa sull'opinione opposta, perché sono un tifoso di un ruolo delle assicurazioni che si allarghi verso tematiche dell'ultimo miglio, del rapporto con il cliente. E sono spaventato dalla possibilità che invece restino un po' nelle retrovie, perché si impara dal cliente e se tu il cliente non lo vedi fai fatica a conoscenza. Però una precisazione Marco, il cliente verrà sempre visto dalla parte rete agenziale che rimarrà una componente molto importante. Diciamo che però è il concetto di assicurazione, vista come prodotto venduto singolarmente, stand alone, non sarà più così. Verrà inserito in un circuito, secondo la mia idea, poi ovviamente posso assolutamente sbagliarmi, però ecco la mia analisi è proprio questa, il che non vuol dire che si perderà di valore, cioè la fabbrica prodotto avrà sempre un valore, perché l'acquisto non verrà più fatto dal Contini Marco, verrà fatto da un soggetto che mi darà come gadget alla polizia e che la comprerà lui, quindi cambierà il paradigma, però a questo punto vuol dire che la fabbrica prodotto non sarà più legata al singolo cliente ma al servizio che verrà fornito intorno al cliente stesso. Ti ringrazio Marco, ti ringrazio veramente di questa chicchierata, mi sono divertito un sacco, quindi grazie mille di essere stato qui. Grazie a voi. Questa era la seconda puntata di Gtalk, spero che sia stato di vostro interesse, io ringrazio ancora Marco Contini e vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao. Grazie. 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 Grazie.